Essere presenti in rete per implementare le presenze sul territorio. È il proposito di chi lavora in Val Daveto per accrescere le presenze turistiche nel proprio parco. Valorizzare i servizi online per far conoscere le bellezze del parco anche ai turisti e migliorando metaforicamente i collegamenti tra la costa, già metaturistica, e l'entroterra. Un luogo, aggiunge il Presidente del Parco Focacci, che andrebbe promosso a livello europeo e che ha già dotato di strutture ricettive per accogliere flussi turistici consistenti. Noi abbiamo aperto negli ultimi anni tre rifugi nuovi, ne abbiamo altri sul territorio, ne abbiamo due, possiamo fare i nomi di tutti, almeno quello del Bocco, che era già aperto, abbiamo quello del Penna, aperto da poco, abbiamo quello del Malgazzanoni, abbiamo quello di Prato Mollo, abbiamo il piccolo rifugio di Ventarola. Le strutture ci sono, gli esercenti ci sono, rispondono, quindi più gente viene, più noi ne vogliamo. Non è un problema di spazio, è soltanto questione di possibilità. Tramite il web possiamo essere riconoscibili sul nostro territorio, perché possiamo andare dall'altra parte del mondo senza dover usare della carta. E poi però noi siamo presenti sul territorio come accoglienza, per cui saremmo presenti per il turista che vuol venire da noi, che vuol vivere delle esperienze, che vuol vivere delle emozioni, perché noi abbiamo tanto da raccontare. Argomenti trattati durante la presentazione del progetto europeo Smart Destination, il cui scopo è proprio la valorizzazione locale attraverso mezzi digitali. La presentazione è avvenuta in uno dei siti più pregiati della vallata, l'Abbazia di Borzone, che sarà destinataria di un contributo di 12 mila euro, per ristorare il portone e sarà punto focale del rilancio della vallata. Dopo tanti e tanti anni di fatica, a volte anche non molto corrisposta, finalmente si cominciano a vedere dei frutti. E spero che l'Abbazia faccia e svolga quel ruolo che le Abbazie avevano nell'antichità, nel primo medioevo, quando diventavano realmente dei punti di riferimento a livello religioso, anzitutto di proposta cristiana, ma anche a livello culturale e anche economico.